Domenica la super sfida, Don Carlo Misilmeri Acragas, che garanti aspetti? Sicuramente una bella partita, comunque sia stiamo parlando di due squadre che lottano per obiettivi importanti. Noi ci stiamo allenando bene, ci stiamo allenando con il giusto entusiasmo, sappiamo che sarà una partita abbastanza combattuta, ma come chiede il mister noi saremo sempre concentrati e andremo lì per fare bene. Il Misilmeri che avversario è? Penso che non abbia bisogno di presentazioni, è una squadra piena di giocatori importanti, anche di categoria superiore, però ogni partita è a sé, andremo lì con l'atteggiamento giusto e speriamo di fare bene e di ottenere punti. Oltre all'atteggiamento giusto che Acragas servirà per portare a casa l'intera posta in palio? Io penso che serve l'Acragas che si è vista ultimamente, ovvero un'Acragas compatta, che combatte su tutti i palloni, che ripeto è una partita importante e che ha bisogno di tutti, noi non vediamo l'ora. Eccoci con Lukas Korner, attaccante svedese dell'Acragas. Acragas che prepara la partita, il big match contro il Misilmeri. Sì, il Misilmeri ha tutti i giocatori forti, ma io penso che anche noi abbiamo molto qualità in questa squadra. pure questa settimana, preparazione molto bene, il mio corpo e io penso anche altri ragazzi di corpo e altri ragazzi sono pronti, non sono stanco. Sei contento del tuo inizio di campionato? Finora hai fatto tanti bei gol. Sì, sì, contento, contento. C'è un'abituazione, è tanto diverso dal calcio in Svezia, dal calcio in Inghilterra, dal calcio italiano. Prima partita per me è difficile, ma lento, 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 giorno dopo giorno io lavoro molto è abituato più, ma io penso che lo faccio bene, ma anche io voglio fare più. Sappiamo di affrontare una squadra importante, costruita per i piani alti, ma come ti ho detto in precedenza affrontiamo le partite come ogni settimana. Il Misilmeri, dal canto tuo, che avversario è? È una squadra importante, sappiamo il mercato che ha fatto, c'è giocatori importanti, indicatori a superiore, ma noi siamo tranquilli, ovviamente non ci nascondiamo che rispettiamo la squadra, ma andiamo lì per ottenere il massimo di risultati. Quali armi serviranno, armi sportive, per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Il gruppo, la squadra che ha sempre fatto fino ad oggi è aggressività, correre tanto, sacrificio e giocare l'un per l'altro. Come si vince questo campionato, secondo te? Con tanto sacrificio e con la squadra, con il gruppo. E poi ovviamente ci vuole anche un pochino di fortuna, ma ci vuole tanta cattiveria. E poi ecco, si può giocare male e vincere, si può giocare bene, però perdere.